Musica 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 Dove è una mia chiesa Passa cricola Se tu non metti fuori i rifiuti la sera Prima è facile che ti rimangano li Dopo toccanerà se ne c'è mai di chi è mia passaggio Agevola il lavoro di chi raccoglie i tuoi rifiuti Consulta il calendario e conferisci correttamente i rifiuti la sera prima Più scrupoloso tu, migliore servizio